Amici e amiche di Radiofonica, siamo qui con... My Girl is Retro Ragazzi, è la prima volta che vi esibite? No, no, ci siamo già esibiti nel 2019 per l'uscita dell'EP dell'epoca e quindi no, siamo tornati al Croma, non è la prima volta Ok, dopo la pandemia quindi c'è il Grande Ritorno? Grande Ritorno, Grande Ritorno Che tipo di musica fate? Ma, cantatoriale, siamo un po' cantatoriali, sperimentali, non lo so, un po' difficile da dire però potete ascoltare il disco per scoprirlo Cosa porterete se restate sul palco? Portiamo il nostro ultimo disco che si chiama Radici, è uscito a fine marzo e quindi insomma lo stiamo provando portando live e vediamo l'ora di farlo sentire a tutti E questo disco dove si può ascoltare? Dovunque vi venga in mente, da tutte le piattaforme digitali esistenti quindi non ci sono scuse, ovunque Va bene, ok, grazie, un saluto a Radiofonica Un saluto, ciao Ciao